Otto mesi per il giovane che prese a bottigliate un vigile urbano in piazza della Badia ad Arezzo la scorsa estate, questa la condanna pronunciata poche ore fa. Era la sera del 5 giugno del 2021 quando alle 23 si scatenò il parapiglia. L'orario del coprifuoco dovuto all'emergenza sanitaria era scattato da circa un'ora. La polizia municipale si trovava in zona per un servizio di controllo. Uno dei due operatori aveva avvicinato il giovane che si trovava fuori da uno dei locali della piazza con una bottiglia di birra in mano nonostante non fosse concesso consumare alcolici in contenitori di vetro all'esterno. La situazione poi precipitò alla richiesta di esibire documenti avanzata dall'agente. Il ragazzo scappò imboccando via del Saracino e durante l'inseguimento il giovane avrebbe lanciato la bottiglia colpendo l'agente procurandogli una frattura del setto nasale. Il ragazzo fu poi identificato in meno di 48 ore. Ieri la sentenza di condanna per l'accusa di lesioni resistenza pubblico ufficiale. Il sindaco di Arezzo commenta positivamente l'esito della vicenda e aggiunge sono convinto che anche i nostri agenti della polizia locale debbano essere dotati di ogni strumento di tutela della loro sicurezza personale e sono favorevole alla dotazione delle body cam dispositivi in grado di diventare testimoni oculari di ogni tipo di aggressione.